Guido Guidesi, secondo indiscrezioni pare che la legge di stabilità di altri soldi a Roma è così? Sì, pare proprio di sì, le indiscrezioni sono indiscrezioni giornalistiche, oggi è su tutte le testate nazionali, pare che nella legge di stabilità il governo ha pensato bene di stanziare 600 milioni di euro per coprire il buco di bilancio di Roma, o meglio parte del buco di bilancio di Roma, questo dopo che Roma non ha i vincoli del patto di stabilità come tutti sappiamo e tutti gli anni è servita da un autocontributo statale. Detto questo, adesso verifichiamo le conferme di questa indiscrezione, ma se è così la lega della battaglia. Nell'ultimo mese è già la seconda volta? Sì, è già la seconda volta, ma adesso siamo in una quotidiana, chiamiamola frenesia, agitazione, da parte del Presidente del Consiglio che prima annuncia cose, poi le smentisce, diceva di voler presentare la legge di stabilità ieri, poi oggi dice di non guardare le indiscrezioni, ma di aspettare domani, vediamo come va a finire questa sorta di tiremola qua con la legge di stabilità. Certo è che se dovessero veramente aver stanziato 600 milioni di euro per il Comune di Roma, è uno schiaffo in faccia a tutti gli amministratori responsabili dei comuni del Nord, è uno schiaffo in faccia da parte del Partito Democratico ai loro amministratori locali, un Partito Democratico che tutti i giorni non fa altro che a parole difendere gli enti locali e poi li massacra in qualsiasi provvedimento.